Buon pomeriggio a tutti, perché quando l'ascolterete sarà pomeriggio, Est & Guest qui con Ape, un meraviglioso trio, trittico, a righe e anche a... bello, molto bello quel maione. A confondere l'avversario. Molto bello, in maione e siamo qui appunto perché a brevissimo rinizia la stagione di Ape, la stagione di Ape. È di fatto una quinta stagione. È di fatto una quinta stagione, anche di più forse. Sì, c'è una quinta che ne comprende due. Ah, ok. E ci sono tante novità, tante cose che succederanno, tante cose che sono successe, anche l'anno scorso che è stato un po' un rinizio, bellissimo, meraviglioso, forse anche al di là delle aspettative. Quello sicuramente. Grandemente. Ok. E ci saranno un sacco di cose nuove quest'anno, a partire dalla comunicazione, che chiaramente è cambiata rispetto all'anno scorso, perché di anno in anno si cerca anche di fare delle cose nuove, no, Orsola? Sì, in realtà noi cambiamo tutti gli anni, ma più che altro per noia di noi stessi che per fare cose nuove. No, non è vero, perché appunto Ape comunque di per sé ha sempre lo stesso format, però di anno in anno cerchiamo di concentrarci su un aspetto o su un altro. Quindi l'anno scorso era molto legato al tema della rinascita e della ripresa dei grandi classici, che è quello che volevamo comunicare con Ape. Ed era il decimo anno. Ed era il decimo anno, esattamente, grande anniversario. Quest'anno quindi è l'undicesimo. Bravissimo, mi hai tolto le parole di bocca. E stanno diventiamo maggiorenni. L'ho preparata la puntata, si vede? Sì, si vede, si vede, ma anche noi in realtà. No, e invece quest'anno comunicazione è tutta incentrata sul calore, che ci hanno fatto notare che poteva essere un tema scomodo per come sta andando il mondo, ma noi abbiamo deciso che invece ci piace avere caldo. Fa riflettere. Fa riflettere. Fa riflettere. Ma anche ridere. A me viene in mente, quando si dice calore, quel meme è su Renzi, nel primo periodo di Renzi, in cui diceva ci vuole calore. Non so se vi ricordate quel periodo lì. Vabbè, comunque, quindi calore. Sì, anche noi ci siamo ispirati a Quello. A Matteo, che comunque è il nord. Che ci guarda. Sempre. E appunto, quindi, devo dire, un ottimo escamotage anche estetico-grafico, perché comunque uno potrebbe pensare, questi fanno degli eventi, si occupano principalmente di trovare le location più belle che ci sono a Milano e poi magari sulla grafica si distraggono. Invece, devo dire che avete fatto un bellissimo lavoro, a mio parere. Perché appunto, legato al concetto del calore, poi ci sono queste riprese, questo filtro di termo... Aiutatemi, termosensibile, no? Sì, cioè noi l'abbiamo trovato così. Quindi, no, il filtro in realtà, che tra l'altro vogliamo ringraziare il grafico che sicuramente ci segue dal caso... ...perché sicuramente non succederà mai più. Esatto. Non ti dico cosa succede nel nostro gruppo su WhatsApp, in cui ci scambiamo tutte le varie... Oh, mai ti mi ha posto il logo, eh? Di qua, di su... Noi ad oggi non abbiamo ancora un logo, capito? Nuovo, così si chiama P023. Non c'è un file. Non c'è la... Cioè, la nostra idea è, ok, lo screenshotiamo ogni volta. Quindi, nel gruppo della grafica, diciamo che piovono tendenzialmente insulti, ma credo che sia normale. Cioè, spero che funzioni così anche nelle altre famiglie, però nella nostra funziona così. Ma invece volevo ringraziarlo molto. Ok, ok, quindi in questo momento... Il filtro non è un filtro... Ti facciamo un applauso, quindi. Sì, sì. Perfetto. Ciao, Albi. Il nostro filtro non è un filtro, ma è tutto fatto a mano, con amore, con poi delle cose che sa lui, di cui non ci interessiamo. E comunque, sì, l'idea in realtà è nata da un appuntamento che abbiamo fatto, tra l'altro, con Nico, con dei possibili collaboratori, che forse te l'avevo già raccontato, ma agli altri no, che volevano... Erano molto incuriositi da capire come misuriamo la quantità di persone che vengono agli eventi. La gente, come si dice... Ma come facciamo a sapere quanta gente c'è? E abbiamo detto, assolutamente in nessun modo, cioè a posteriori con tanti drink e con gli occhi, tendenzialmente, con l'applausometro. E invece loro hanno detto, ah, sarebbe interessante studiare un modo basato magari sul calore che generano le persone. E sul momento le abbiamo detto, sì, sicuramente interessante, ma non credo che abbiamo la tecnologia per farlo. Comunque, grazie. E invece poi mi è rimasta in testa questa cosa. e abbiamo pensato che effettivamente Ape, mettendo insieme così tante persone, genera calore sicuramente. Per dare una referenza estetica, appunto, più o meno l'effetto del calore è questo. Sì, questo è quello generato dai tuoi piedi. Sì, è la pezza del mio piede che principalmente si... Certo, certo. Però avete fatto, appunto, una comunicazione con questa estetica. E ci sarà anche del merch con questa... C'è del merch con questa estetica? C'è del merch, ma con calma. Con calma. Segreto, per ora è segreto. È da mantenere segreto. È da mantenere segreto. No, c'è del merch, ma lì entra in gioco la seconda nostra, diciamo, personalità, per cui tutto parte da dei temi molto alti, da dei concetti molto romantici, il calore umano, eccetera. E poi nelle riunioni creative, esattamente come in Boris, tutto degenera a dei livelli veramente di trash, per cui... Tipo scopare punti di domanda, quelle cose... Ecco, adesso non voglio rivelare niente, però il merch, diciamo, che affronta un tema del calore un po' più terra-terra. Ok. Cioè, capito, si parte da chissà quanta gente c'è, misuriamolo con una camera termo e poi si arriva a fare, tipo, gli accendini. Capito? Ah, certo. Questa è la messa a terra della creatività. È tipo... Molto peggio. Idea. Idea. Mind-blowing. Arte, bro. Vabbè, alla fine funziona sempre così. Funziona così. E sempre così. Per chi... Perché siamo partiti in media stress, per colpa mia, però per chi non sapesse, visto che abbiamo... Cioè, voi siete qua, ci avete cercato, perché appena prima di Radio DJ ci siamo noi. Quindi avete detto... Certo. Siccome l'anno scorso era venuta un po' poca gente, abbiamo bisogno di un megafono. Certo. E quindi Orson mi ha detto, Harry, dai, possiamo venire da voi, che è... Però... Con le monetine, tra l'altro le ho portate. Per chi non conoscesse Ape, perché magari abita a Brescia, come per esempio Giovanni, che salutiamo, che è... Oppure, andando più lontano, a Lodi, ok? Per chi non conoscesse Ape, a Lodi. Ape che cosa ha fatto in questi undici anni? È riuscita ad andare a popolare delle aree, delle zone, delle piazze di Milano, che erano totalmente slegate dalla... Movida, se vogliamo chiamarla così. Movida no. È brutto, Movida. Movida no. Aspetta. Sono allergico. È lo stesso! Me lo sono fatto da solo, perché era dato... Cazzo, Movida è una parola tremenda. Tremendita. 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 Che vi ho utilizzato all'epoca. Ok, allora... A ripopolare... A ripopolare delle zone in dei momenti in cui solitamente non sono destinati. Per cui solitamente non sono destinati. In realtà in spazi pubblici dove non succede niente, noi portiamo un po' di festa. Ok, bello. Un po' di festa così. Ok. Solitamente la Movida si... Vabbè, quella è un'altra storia. Ok, quindi, e voi direte, probabilmente non avete capito, però ecco, ci sono delle zone e dei luoghi di Milano che solitamente magari ci sono solo uffici o, per esempio, la mitica Piazza Affari. Sì, in realtà il Piazza Affari, come nel centro di Milano, dopo una certa, dopo le sei, non succede niente. Cioè, se vuoi trovare un bar aperto non esistono. Cioè, troverai solo... Aprono quando c'è l'ape. Esatto. Tra l'altro. Dinamica nuova. Dinamica nuova. Esatto. Sì, per indotto facciamo aprire anche i bar intorno. In realtà sì, cioè noi andiamo in spazi dove non succede niente, dove anche in realtà c'è un motivo per cui non succede niente, perché non c'è niente, no? Tipo in Piazza Affari che ci sono solo uffici e banche e la borsa. Che salutiamo. Che salutiamo. E Futsi Mib. FTS. FTS. Che sembra tipo un brand incredibile. Invece? Invece è un qualcosa. Comunque. E niente, cerchiamo di fare, di avere degli spazi, di creare degli spazi, uno di aggregazione, di cultura e dove la gente possa stare bene. E soprattutto tipo dei rave, perché è una cosa che noi siamo molto bravi e ci appellano sempre dicendo tipo facciamo i rave. In realtà no, cioè non nasce così, non vuole essere assolutamente quella cosa lì. Chiaro. Il mio appunto elogio era quello di farsi, di avere voglia di farsi lo sbatti, di rompere anche tanto i coglioni, credo, per riappropriarsi o comunque dare la possibilità a milanesi e non di poter vivere in posti che altrimenti non ci sarebbe proprio la possibilità. Quindi facciamo una grossa trombetta ai raga di ape che, perché poi dall'esterno è sempre facile, dicono eh vabbè però chiaro in piazza affari sono buoni tutti. Eh però come direbbe Antonio Albanese, è un po' di cazzo, perché comunque per poter fare una cosa in piazza affari ci vuole tanta organizzazione, ci vuole, bisogna avere un dialogo di un certo tipo con le amministrazioni pubbliche e quindi grazie. Grazie a te, no ma infatti volevo solo puntualizzare che riappropriarsi sì, ma nel senso ci sono persone che si riappropriano in modi più diciamo efficaci e anche probabilmente giusti per la comunità, degli spazi della comunità, nella fine facciamo un evento in altri modi e con altri, con un altro format e chiaramente non è un proprio proletario, ecco c'è chi lo fa e lo fa meglio e ha più ragione di noi chiaramente, il nostro è un evento, è una festa ed è fatto per stare insieme, per stare bene, però sì diciamo che l'intento di farlo e di pensare di poter fare qualcosa, non dico per la comunità, ma banalmente per le persone che come noi hanno piacere a vivere questo genere di momenti, è un discreto sbatti, però lo facciamo con gioia. Ormai da abbiamo detto undici anni, dieci più uno, facilmente undici. Quindi abbiamo parlato velocemente di piazza affari, ma quest'anno c'è una novità. Quest'anno c'è la novità del cavalcavia bussa, che è appunto un cavalcavia, incredibile. Più questo. Tra l'altro mi hanno, ok, quando abbiamo, volevo dire solo dire che quando abbiamo annunciato il cavalcavia bussa, mi è arrivato un commento a una storia su Instagram e mi hanno detto, è proprio questo il momento in cui spingere su TikTok? E io tipo lì non ho capito, noi quest'anno per la prima volta mi hanno detto, apriamo TikTok, no? Che è importante, vabbè, facciamolo. E la cosa assurda è stata che io gli ho linkato subito e gli ho detto, eh guarda, l'abbiamo aperto, no? In realtà no, c'era tipo un layer che diceva TikTok. TikTok, capito, cavaccavia. Molto, molto stratificato come layer. E quindi lui ha risposto, così. Tu eri contentissimo perché pensavi di ricevere hating sul fatto che hai aperto il canale TikTok, invece qualcuno ti ha... No, no, è stata la prima volta che ho detto, oh, devi fare sta cosa, e io, mica l'abbiamo già fatta, te la linko subito, seguici, e invece no. Cioè, non è interessato a niente. Però la cosa assurda è che l'ho capita dopo tre giorni, no? Ti è arrivata? No, perché mi ha detto tipo, ah no, allora non hai capito quello che volevo dire. E l'ho lasciata lì, ho detto, no? Porco zio. Poi, tipo sul gruppo qualche giorno fa, è ritornata la cosa, mi si è accesa la lampadina, ho detto, cazzo, incredibile, cioè. Incredibile. Quelle robe che piano piano si diventano, come il vino, capito? Come il vino. A me viene in mente sempre invece le rime dei Dogo, che ascoltavo quando avevo 14 anni, o anche 12, e che poi, tipo due anni fa, l'anno scorso, alcune cose mi, ripetendole, ripetendole, mi sono, oppure, sì, oppure, proprio in quest'ultimo periodo, visto che siamo appena sopra la DJ, è venuto Don Joe settimana scorsa e mi ha spiegato che cos'è il non Joe, per dire. Però vabbè, era per flexare che è venuto qua Don Joe. È il non Joe, lui dice, Marra dice, queste piscalle vogliono Don Joe, non il non Joe. Non Joe è il non giovane. Eh, Mandelli, io non lo sapevo assolutamente, tu sei esperta. Più vecchia, forse, volevi dire. Quindi, cavalcavia bus, geolocalizziamolo. Posso tossire? Devi. Grazie. Va bene, lo sapevo. Va bene, lo sapevo. Non mi stancherò mai. Quindi, il Joe localizziamolo. Perfetto. Oggi veramente stiamo dando tutto. È così, è così. Allora, è quel cavalcavia che collega la stazione Garibaldi, partendo da dietro la stazione, quindi il lato più verso isola, a Moscova, Corso Como, insomma quella zona lì. Zona, direi, totalmente sconosciuta e più, tant'è che viene usata come parcheggio di base. E niente, è saltata fuori quest'idea qua dopo delle sessioni di brainstorming belle potenti su dove si potesse organizzare un'ape se non appunto in piazza Fario al parco. Sessioni durante le quali ci si è rese conto che non sia così facile appunto trovare un posto che abbia le caratteristiche adatte. Però appunto poi abbiamo trovato questo posto qua e quindi faremo sgomberare il cavalcavia e ci imporremo. E portiamo un po' di festa. Anzi, tra l'altro, questo veramente no. Non si può dire assolutamente. No, tra l'altro questa può anche essere una call se a qualcuno viene in mente una location perché qua per i prossimi anni bisogna un attimo capire come rigirarsi. Possiamo mandarvi un piccolo elenco delle caratteristiche base. Ecco, quali sono le caratteristiche di cui avete bisogno per un posto? Almeno tre volte più grande. Ok. Che qualsiasi cosa ti venga in mente. Poi, isolato dai residenti, lontano da attività commerciali che venderebbero da bere al posto nostro. Certo. Il più possibile. Lontano dai cimiteri, abbiamo scoperto. Ah, perché? No, è solo il monumentale che non va bene. E' strana questa cosa. Io ho pensato comunque che proprio fare la movida davanti al cimitero potesse non sembrare ok a tutti. In realtà è la cosa più safe dell'universo. Sicuramente nessuno si lamenta. Se non fosse che l'ape si sarebbe andato a collocare esattamente tra il cimitero monumentale e una strada in cui le macchine vanno a 90 km orari. Quindi dici un secondo sei lì, il secondo dopo chissà dove sei. Il secondo sei dall'altra parte esatto. Dai passi l'ape. Cazzo. Eh sì. E vabbè, già queste tre caratteristiche non sono esattamente... E anche luoghi non sfregiabili, tipo il pavimento, che è una cosa a cui uno non pensa mai. Ok. O il verde. Ma tu dici, il pavimento, il verde, quando poi scopri che se pesti troppe volte quel metro quadrato di erba devi spendere 10.000 euro di erba. certo. Quell'erba, quella di chi? Quell'erba lì. Quella è non... Non altra. No, no. Non altra. No. No. Però tipo, cioè il pavimento, che è una roba a cui uno non pensa mai, effettivamente, ad esempio in Piazza Affari, se per caso si dovesse rompere una bottiglia e quei vetri dovessero per caso finire proprio tra quelle piastrelle, sarebbe... Arriva la polizia del vetro. Arriva la polizia del vetro. La polizia del vetro. La polizia. Ah, che poi è pavè. Ma infatti, non so io, non c'è. Ma è pavè, infatti è pure peggio perché si va tutto ad incastrare lì. E non va via più. Ah, un casino. Casino. È già la nostra esperta del decoro urbano e non lo sapevamo. Altre cose che avete scoperto appunto facendo, perché poi ha calore e poi anche fare. Scoperto facendo letteralmente tutto. Quello che facciamo l'abbiamo scoperto facendo. Vado molto empirico. Sì. Cioè tipo che hai bisogno di un certo tipo di tempistiche per chiedere i permessi. Cioè tipo non lo puoi fare il giorno dopo, ti viene in mente una roba. Chiaro. Questo lo sappiamo è un po' di anni però. Sì. Questo lo sappiamo è un po' di anni però sai. Esatto. No vabbè. E ci sono delle, io immagino la risposta, però delle sorte di economie di scala avendo a che fare con la pubblica amministrazione o tipo cambia giunta, dico le parole, corrigetemi se sbaglio, e bisogna iniziare tutto. Cioè quanto è frustrante quella cosa lì? No, allora in realtà ormai Ape è conosciuta diciamo e comunque anche in senso è una tradizione ed è un format appunto riconosciuto in generale dalla città di Milano quindi grazie a Dio viene percepita, cioè no grazie a noi, viene percepita come un valore aggiunto per quello che succede in città. Ovviamente con tutti i parametri del caso nel senso che quando l'anno scorso abbiamo cercato di tirar giù Piazza Affari, comunque è bello il valore aggiunto però ci siamo riseduti un attimo al tavolo. Giusto, a capire. Giustamente. Capire cosa sta succedendo. Esatto. Però no, chiaramente ci sono delle cose da ricalcolare appunto ad esempio quello che è successo l'anno scorso ha fatto sì che quest'anno chiaramente noi per primi ma chiaramente anche i nostri interlocutori al comune ci siamo guardati negli occhi e ci siamo detti Piazza Affari non è un parco giochi su cui siamo esseri d'accordo. Dipende per chi. Per i grandi mi sembra che sia un parco giochi. Esatto. E una bisca. Esatto. E quindi vabbè banalmente appunto ci siamo dovuti mettere a cercare un'altra location e non è stato assolutamente semplice. E quindi siamo arrivati appunto al cavalcavia Bussa. Ok. Scusa. Se vuoi la rifacciamo sto dritta al Bussa. Quante ne faremo al cavalcavia Bussa? Tre. 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 Tre per ora. Diciamo che adesso abbiamo la stagione impostata fino a luglio. Ok. Con tre date al cavalcavia, due in Piazza Affari e poi parco. E poi parco. E poi a settembre vediamo come rimescolare le carte e cosa aggiungere. Che noi comunque aggiungiamo e basta. Non togliamo niente. sempre per chi sta a Lodi e non sa tutto. Quanti foto per te. Comunque basta andare su Instagram. E su TikTok. Com'è la line up? Tosse. Aspetta. Com'è la line up quest'anno? Com'è? Com'è? Allora come ogni anno dici ok voglio fare queste cose. Ti metti lì e dici ok. eh parapapà. Ma in realtà cambia tutto. Cioè perché dici ok magari su cavalcavia Bussa siccome è comunque una nuova location. È nuovo per tutti no? Cioè comunque non è la nostra comfort zone tipo Piazza Affari o Parco. Dici magari facciamo una roba più semplice anche a livello tecnico. Con una certa direzione anche perché si presta meglio. Cioè comunque lì lo skyline è bellissimo da vedere dietro. Il palco l'abbiamo orientato in modo che si vede dietro gaolenti. E quindi c'è Beyoncé. C'è dietro una logica di un certo tipo che ti porta a fare una programmazione di un certo tipo. Poi ovviamente bisogna fare conti con la realtà e ci si trova tutto scombinato, tutto rimescolato. Quest'anno cominciamo il 2 maggio con Pablo Bozzi che è un Jay di Berlino, Megaforte, Boyle Room, robe così. Per un po' di festa. Per un po' di festa matta. La settimana dopo facciamo Liliaz che è una DJ anche lei in giro un po' pazzerello. E poi in realtà inizialmente dovevamo essere le prime due su Cavalcavia e poi ci saremmo spostati in Piazza Affari. Quindi su Piazza Affari volevamo fare una cosa un po' più orientata su concerti, sulla musica che abbiamo sempre fatto in realtà. Quindi avremmo fatto lo show di European Vampire, Ibisco, però ovviamente adesso facendone tre in piazza si sono rimescolate un po' le carte. Quindi in realtà abbiamo messo il focus sulla prima parte di stagione, su quella che abbiamo annunciato, quindi sulle prime tre o quattro date. Faremo esatto un focus su questo. Questi qua sono i nomi, li abbiamo in realtà già anche annunciati. Poi man mano, di settimana in settimana, li raccontiamo meglio. Poi ovviamente ogni acta ha il proprio anche artista locals che comunque noi ci teniamo sempre a, va bene, fare DJ da Berlino, da L'Olanda, ok, no, tutti bravi. Però ovviamente coltivare anche artisti locals di Milano che comunque fanno, operano all'interno del... Movida? Movida. No, vabbè, veramente. Sono distratta un attimo, dici Movida. No, comunque della scena di un certo tipo su Milano è giusto anche dare spazi. Perché comunque la fortuna di fare la direzione artistica in Ape è... da una parte non hai l'ansia di dire, oh, minchia, se metto sto acta e mi sbiglietta, facciamo breve vendita e cose, cioè, veramente l'ansia, no? Sbiglietta è un termine che non conoscevo, cazzo. Eh, ma noi del settore lo utilizziamo molto. Bello! Nessuno ti ha mai sbigliettato, si vede chiaramente. No! Solo il controllore sul tram. Esatto. Però ho capito, è una cosa che non hai l'ansia, la gente viene comunque, devi solo trovare... è quasi un lavoro di fino dove dici, voglio trovare l'acto giusto, sul... nella situazione giusta, capito, nel contesto giusto che hai davanti potenzialmente tanta gente, l'impianto è figo, il palco è figo, devi solo... cioè, l'unico focus è semplicemente sulla musica, su quello che fai, capito, che non è sempre così ed è molto difficile creare una situazione del genere, quindi andare a cercare l'acto giusto, spiegarlo, poi anche in comunicazione e farlo funzionare in evento è una roba. Vediamo in realtà, dopo questi dieci anni, questo qui l'undicesimo, dieci più uno, vediamo se questa cosa, se quest'anno riusciamo a trovare il focus su quello che stiamo facendo. Perché è mega difficile, cioè, non è un palco semplice, glielo dico sempre anche a chi viene a suonare, cioè, non è che la gente paga per venire a sentirti, quindi hai i tuoi amici sotto, no? Cioè, tu devi in qualche modo anche conquistare il pubblico, no? Perché è totalmente... noi abbiamo... cioè, il nostro target è mega grande, cioè, da quello che finisce la scuola a quello che esce dalla piazza affari, dall'ufficio della borsa, si stacca la cravatta, se la mette in testa e si prende cinque birre e si fa la serata, capito? Sì, e poi sei tanto tutti lì per ape, per la situazione, esatto, piuttosto che per l'artista, a meno che... Sì, esatto, cioè, abbiamo fatto in piazza affari nel 2019, abbiamo fatto Dargen, abbiamo fatto un sacco, cioè, mi ricordo il mio primissimo ape nel 2016, abbiamo fatto Fraquintale, come primo act, no? E... però, capito, sono robe dove sulla carta magari ci sono act che dici, minchia, questo assolutamente devo farlo ad ape perché secondo me è mega on point, però poi quando è sul palco magari alcune cose, cioè, magari non riesco a capire il pubblico o non vengono... però altre invece dove non te lo aspetti. Esplode, esattamente. E sul palco avete lavorato? Perché so che tutti gli anni ci sono novità, ci sono... Cioè... L'urlo di tamburi ce l'hai? Eh, shit. No. Fammi una trombetta. No, quest'anno in realtà abbiamo fatto un upgrade, sicuramente, importante sulla componente visuale del palco. Avremo finalmente un LED wall che verrà gestito da Galattico e tutta la parte creatività, le abbiamo... Galattico? Galattico Studio. Ok. Anche loro sono Regas, di Milano, mega forti, hanno seguito un sacco di tour e sono mega on point su quello che fanno. Tutta la parte creativa abbiamo in realtà rinnovato la collaborazione con Terminus. Anche loro sono di Milano e sono uno studio... secondo me... cioè, in realtà ci hanno aiutato sempre da Piazza Affari all'anno scorso a Wired, Parco Sempione, ci hanno sempre dato una mano a livello... per dare un quid in più al palco, anche che sia bello da vedere, che sia... che sia chiaro quello che sta succedendo. E quindi tutta la parte creativa che l'abbiamo... gliel'abbiamo fatta fare a loro, la stiamo ancora in realtà definendo in questi giorni. Mancano solo tre giorni. Infatti. Comunque sì, grande LED wall. Grande LED wall. Tipo dimensioni? Ah beh, adesso... Non si dico, non sono importanti. È grande, è grande, esatto. Non sono importanti mai. Grande per noi, poi non è così grande. Ok. Grande LED wall. E poi... pizza fritta. Sempre. Pizza fritta sempre. A tutte le ore. E c'è anche una proposta vegana quest'anno? È la dottoressa che si occupa dei... Ma io rompo i coglioni, faccio... Faccio sbirra delle vizze. Sono dei food nuovi, ma io non so di cosa si occupano, oltre che di fare del cibo. Sicuramente... Beh, puoi prendere la pizza fritta senza mozzarella, per esempio. Senza strutto, che però non so come fai a scenderlo. C'è un po' difficile. Ma mi viene... No, nella pizza fritta non c'è lo strutto. No, no. No? No. Io non so. Non hai mai visto con le vasche di olio... No, ma nell'impasto, no? No. Ok. Non lo so. Forse più la piadina. Piadina sicuro. Sicuro. Lo so, io Vincenzo lo vedo... Lo vedi distrutto. Lo vedi distrutto. Ok, quindi... Che è un cult. Lui è con voi da tanto? Eh, sì, da... Non voglio sbagliare, però... Perché all'inizio i primissimi ape facevamo del cibo che non vorrei citare, perché non lo facevamo, ma lo scaldavamo in delle comode piastre, come il paninaro. E' buono. Ehm... Non so da quanto abbiamo i food truck. Forse dal 2014. Io dal 2016 me li ricordo. Secondo me dai primi eventi che abbiamo fatto proprio al parco, come... Esattamente come li facciamo adesso, che era tipo il 2014, quindi sì. E secondo me Bello e Buono c'era da sempre. Bello e Buono c'è sempre stato. Sì. Quindi la pizza fritta la trovate. Buonissima. Buonissimissimissimissimissima. Ehm... Un po' di implementazioni, perché l'anno scorso a un certo punto c'è stato questo momento in cui praticamente... Cioè, era complicato riuscire a... Vivere. A vivere. Cioè, a vivere, insomma, a fruire la serata. E quindi vi siete adoperati per... Uno cominciava a comprare gli spritz, cioè il pomeriggio di due giorni prima, perché aveva l'ansia di non riuscire a prenderlo. Esatto. Quest'anno tornano queste... Quest'anno siamo cashless, quindi... Si può dire in radio? Non lo so. Adesso chiediamo poi. Cazzo, sembra... Scusa, non volevo offenderti. Ok. Ehm... Siamo cashless. Siamo cashless, quindi innanzitutto non pensare di corrompere le nostre persone in cassa. Mai. Mai. Mai, non farlo. No, si fa tutto tramite QR sito, quindi esattamente come l'anno scorso puoi ordinarti gli spritz domenica quando torni dalla serata del sabato e pensi... Che c'hai l'ansia, la fomo... Esatto, esatto. Quindi questo sicuramente un po' aiuterà. Noi, come al solito, siamo uno squadrone della muerte, di non so... Cioè, ormai ci sono più persone che lavorano di quelle che... No, non è vero, però ok, parecchie. E basta, poi ci sono tutte le cose noiose nostre, di pulizia, polizia, servizi vari, di... Insomma, un po' chiaramente sono obbligatori, nel senso moralmente parlando, e un po' speriamo che siano effettivamente anche d'aiuto. Che dire, per tutto il resto... Seguite i profili ufficiali di Abre. Anche se sei di Rodi. Anche se sei di Rodi, anche se sei di Rodi, soprattutto. TikTok, quindi comunicazione nuova su TikTok. Che cosa prevede? Cosa prevede? Cosa prevede? Tantissimi TikTok. Tantissimi TikTok. I contenuti diversi, chiaramente, immagino. No, sì, è una cosa che abbiamo in realtà sempre, non dico lasciato nell'angolo. Ma odiato. Esatto. Sì, sì, puoi dirlo. Tutta colpa odiata. Poi da questa puntata vi do degli estratti che potete pubblicare lì, così almeno... Grazie. Sì, è importante. Parlate di Abre su TikTok. Grazie. E in realtà l'abbiamo sempre lasciata. Perché mi piace sentire la voce. Parla pure da solo, non preoccuparti per noi. Noi facciamo un altro giorno una puntata. TikTok. TikTok. Sì, quest'anno in realtà, esatto, è una cosa che abbiamo sempre lasciato un po' dietro le quinti, che non abbiamo mai approfondito quel discorso lì, però in realtà già l'anno scorso comunque tutta una serie di contenuti tipo Reel. Eh, poi comunque rimbalzavano anche di là, perché ci sono stati... Sì, la cosa assurda è che io ero su TikTok e vedevo gente che faceva i TikTok su Ape. Capito? E noi non c'eravamo. Capito? Tipo noi, tipo a Bottega Veneta praticamente. Sì, capito? Cioè, non esserci... Guarda, io posso andare, per me l'intervista è finita. L'assenza, capito? Questa è la mia teoria. Cioè, è essa stessa la presenza su TikTok. Che in realtà, sì, abbiamo sempre lasciato dietro in un angolo. Poi, quest'anno abbiamo detto, boh, cioè, la gente ci fa i contenuti, perché non dobbiamo... Anche solo per esserci, capito? Cioè, lo utilizzeremo sicuramente come contenitore dove andranno tutti i vari TikTok. TikTok, esatto. Voglio vedere come finisci. Vabbè, comunque per me è perfetto. Cosa va su TikTok? No, va su TikTok. Allora, c'è le robe di Accidentally Wes Anderson e poi le dirette della gente che fa le robe che non succedono mai. Ah, ok, quello è il tuo per te. Posso consigliare il mio contenuto preferito su TikTok? Praticamente c'è questa pescheria che fa dei video in cui apre le pance, tipo dei pesci grossi così, e fa tipo l'unboxing di quello che il pesce ha mangiato. Quindi gli apre la pancia e tira fuori la roba. Raga, ve lo giuro, non avete idea di quanta roba esca da un pesce. Gamberi, pesci più piccoli, pesci più grandi, pesci con dentro altri pesci, è incredibile. Una matrioska. Buongiorno pescheria, è quello? Credo di sì. Eh, lo guarderò, non mi è mai successo. Molto bello. Ogni tanto mi vengono fuori... Ah, ma non conoscete Buongiorno pescheria? È una roba di Napoli? Con affetto e con amore, è arrivato giugiulone. Eh, con affetto e simpatia. No, a me manca, però, perché c'ho un per te un po' strano io in questo momento. Dici anche tu. Mi escono i punti neri, ma io non li voglio vedere. Bellissimo. È una roba che proprio mi fa schifo e non so chi... Può essere che mio fratello sia un ghost account e che quindi lui si guardi... Di? Guardi? Sì, sì. Ok. Quella roba e quindi mi arriva anche a me, ma è una roba che proprio mi mette a disagio lo schifo. Cosa vedete nel futuro di Ape? Pensavo nel feed di TikTok. Cosa vediamo nel futuro di Ape? Nel senso, siete partiti comunque pensandola in grande. Quest'anno? Sempre. Cioè, da sempre. Vabbè, oddio, not really. No. Però, beh, no, ma era impossibile pensarla così, secondo me. Però, vabbè, sì, diciamo che siamo partiti e casualmente c'era lo spazio per fare delle cose grandi e quindi siamo diventati grandi in uno spazio realmente fisico, tipo Piazza Affari e il Parco, che già si prestavano. Se avessimo iniziato in uno spazio molto più piccolo probabilmente ci saremmo fatti delle domande molto prima. Ok. Quindi, cosa vediamo nel futuro di Ape? Bellissima domanda che ci fa tornare al punto prima di quali altre location ci sono a Milano. Ok. No, non è vero. Di location ce ne sono. E ovviamente sono anche in zone giustamente non così centrali come quelle che abbiamo sempre bazzicato e che è chiaramente bello e molto comodo bazzicare ma che diciamo ci piacerebbe anche a un certo punto lasciare per espanderci e comunque in generale per portare la festa anche in altre situazioni, in altri quartieri. chiaramente per come è fatto Ape è un format che funziona con veramente tanta gente, cioè con veramente tanto pubblico e con anche una certa continuità nel senso che in questo momento non è sostenibile farlo in dimensione ridotta, non è sostenibile pensare di farne tre perché ovviamente… sì, è una macchina che quando parte ha bisogno di lavorare. Esattamente. Allora, ha bisogno di… Ha bisogno di far segnalare. Sempre. Quindi no, in realtà nel futuro di Ape ci sono tante possibili cose che vanno dal appunto portare le nuove poste a Milano al… Magari anche uscire fuori da Milano. Uscire da Milano al… che è una cosa che ci è sempre piaciuta l'idea comunque del festival o comunque di una più giorni che non è come avere una location ma almeno sai che per tre giorni non devi montare e smontare roba compulsivamente che comunque è abbastanza importante della giornata. Già l'avevamo fatto in argelati con la design. C'ero qui, c'eravate. C'era la vita che andiamo per mano comunque. Esatto, esatto. Poi abbiamo fatto Wired l'anno scorso, bello, anche se ovviamente non era una nostra produzione però comunque l'idea di stare lì due giorni, di curare una programmazione anche con appunto una cosa in cui dici ok, ho dieci artisti però da far suonare in tre giorni, da studiarmi in una direzione che sia chiara, chiaramente se hai sei mesi di tempo in cui fare trenta artisti con il frattempo la pioggia, i fulmini, il comune che ti toglie le cose. Sì, è vero, perché abbiamo detto che comunque siamo vittime della pioggia. a maggio. Quindi, beh, quello anche su una tre giorni. Sì, però diciamo che spero non piova per tre giorni. Certo, o per sempre. O per sempre. Certo. Ma che faccia un po' più freddo. O un po' più caldo. O un po' più caldo. Un po' più freddo così noi possiamo scalare. Esatto. Esattamente. Perfetto. Volevo chiedervi un po' di aneddotica su Ape perché mi spiacerebbe non riuscire a tirare fuori qualche racconto di cose divertenti, incredibili, anche di dinamiche, come dicevamo prima il pavè con, cioè con, perché poi non sono cocci di vetro, assolutamente li ho visti, al massimo è un po' di polvere. Cioè è un po' di polvere. Plastica. È un po' di polvere vitrea. Un po' di microplastiche. Esatto, ma comunque il vetro non è vostro perché lo comprano altre volte e poi arrivano. Quindi comunque non c'entrerete voi. Però appunto tirar fuori un po' di aneddoti sia su ospiti musicali, sia su, non so, richieste assurde perché fate solo, non so, uno vuole venire e si vuole bere un whisky. Non può. Per dire, no? Quindi magari c'è qualcuno che ha perso la testa per qualcosa. Adesso sarete cashless, ci sarà qualcuno sicuramente che dirà, ah, però voi siete amici delle banche in piazza affari, quindi è un casino. Ma è vero. Sola l'altro. Posso iniziare dicendo che l'anno scorso... Non sui cocci. No, basta. Non sui pesci, per favore. Peccato. Me la devo ripensare, andate voi. L'anno scorso mi è stato chiesto uno spritz analcolico e io ho detto wow, incredibile. E poi sempre in tema spritz, l'anno scorso ho assistito al più grande gesto di imprenditoria italiana, che è stato all'inizio di un app al parco, quando iniziava ad esserci un po' di gente, è arrivato uno zio che si è piazzato a quattro metri da noi, dall'altra parte rispetto alla iguola e ha iniziato a vendere gli spritz e ho detto vabbè, è stato fantastico. Sì, sì, cioè, prego vieni qua e insegnaci. Vabbè, è stato fatto sparire in quattro secondi, ma sono stati quattro secondi veramente divertiti. Gentilmente. Si può far sparire una persona. Cioè, sicuramente lo salutiamo tra l'altro perché sicuramente starà vagando ancora per Marco Sempione. Ma io mi ricordo, cioè, una cosa che non fa parte di noi, ma è come se ormai lo facesse. Giusto? Sì, sì, ma cosa so, io la controllai con Giuntini. No, prima eri così sicura quando gli hai detto via libera che... Sì, sì, ma li so, vuoi sedere, era giusto. Che da ormai diversi anni arriva sempre questo ragazzo Matteo. Ah, certo, Matteo, grandissimo. Lui arriva all'apertura, alle sei, si piazza davanti al palco. Vuoto. Vuoto, cioè c'è solo lui e il bar aperto per i bambini che passano e li impiazza... Lui si piazza davanti al palco, alle sei, comincia a ballare e non smette fino alla fine. Cioè, capito? È tipo l'animatore del villaggio. Sappiamo solo chi si chiama Matteo. Qualche volta ci ha chiesto tipo dell'acqua. Beh, esattamente. Che gli è stata fatta pagare tre euro. Perché in centro l'acqua comunque si paga tre euro. Certo. E la roba assurda è che tipo, quando non c'è, ne sentiamo la mancanza, capito? Cioè, tipo, tra virgolette, la mascotte del... Di ape lì che... Cioè, lui arriva dalle sei e non se ne va via. Cioè, alla fine è tutto pezzato, capito? Cioè... E quando è che... Quindi sappiamo chi si chiama Matteo, che ha quanti anni? No, io non so come si chiama. Cioè, in realtà si l'abbiamo... No, no, no. Il cognome no, però ti può sapere qualcosa in più su di lui. Secondo me potrebbe avere la tua età, tipo, Nicola. Una cosa del genere. 94, 95. Dici? Boh. Sì, sì. Eh, io l'avevo visto, lui anche dentro... Nel video di Eddie, no? Esatto, sì. Infatti, ecco perché... Ah, tu l'hai... Ecco, sì. Esatto. Uè, flash. Sì. No, no, ma io l'avevo conosciuto personalmente. E tra l'altro gli avevamo anche detto di associarsi. Sì, poi però è sparuto. Perché a lui comunque gli piace più la dimensione... Cioè, ci vediamo il martedì e poi però non si vede stare addosso. Ok. Ma Matteo, nel senso, ti vediamo così entusiasta e entra in associazione. No. Ok, va bene. Non è un problema. A lui vuole essere fruitore e basta. Sì, sì. Ma, cioè, vive l'esperienza al 200%. Sì, sì. Cioè, la vive tipo magari anche... Anche di velocità proprio, che balla al 200x. Sì, esatto. Una cosa sola. Quindi si mette lì e continua. Ma anche, cioè, su siti dove all'inizio, ovviamente, quando iniziamo dalle 6 alle 9, di solito c'è sempre un warm-up. Cioè, una roba comunque è una situazione molto soft. Avete imparato anche come balla? Sì, ma è tipo un mix tectonic, gabber e momenti di contemporanea. È bellissimo. Anche arte, posso dire. No, solo arte. Solo arte. Cioè, del tutto arte. Arte bro. No, invece, vabbè, adesso mi farò venire qualche aneddoto specifico, però io invece vado fuori, non in senso buono, ma comunque mi fanno ridere per la gente che, perché ovviamente io seguo la parte di comunicazione, quindi adesso, in questi ultimi due anni non tanto, però prima ero anche l'unica gestora dell'Instagram. Arrivano di quei... Ma non del TikTok. Ma assolutamente mai nella vita. Arrivano di quei DM live di gente che si sente in dovere di commentare se gli sta piacendo o meno la musica, ma in dei modi che, giuro, mi lasciano. Ogni volta ci sono 3.000 persone e tu hai voglia di mandarmi un DM alla pagina di Apple dicendo... Incazzato nero. Ma neanche, tipo, sì, però se DJ fa cagare, cambiamo? Amore, no. Cioè, non credo, però, sento, vado a chiedere. Se vuoi ti rimborsiamo il biglietto, tra l'altro. Ma non hai idea di quanti. Oppure mi ricordo la gente che si incazza per dire, tipo, oh, dimmi la data, dimmi la data, o quando è la prossima data. Ma non lo... Cioè, ogni martedì, controlla Instagram, ogni martedì, se non è in piazza affari, è a Parco Sempione, quest'anno sarà il caviabusse, però, cioè, è molto semplice, capito? Cioè, nel senso, di martedì succede la cosa. Non è che succede una volta il giovedì, l'altra volta il lunedì. È molto semplice. Controlla Instagram e il meteo, comunque. Sì, ma quello comunque, cioè... Poi lo diciamo. Esatto, lo sappiamo anche lì. È una cosa veramente che dici sì. Calmo, cioè, non è successo niente. Martedì vieni, controlla la pagina e sicuramente i tuoi sette spritz te li bevi, capito? Cioè. Beh, ma comunque anche adesso che abbiamo lanciato la nuova... Sì. L'evento... Quando è il prossimo evento? No. Il tipo che ha risposto... Meno Tech House, più Tecno, please. Ma non lo so, vediamo. Bravo. Mi fanno... Mi piacciono tanto. Ma c'è l'opzione sotto al cavalcavia se piove? No. Ti augurerei di no. Cioè, c'è già, ma per delle persone che sono in un modo permanente. Ah, ho fatto una battuta triste. Vabbè. Cazzo. Sono tristissime, ho fatto i tuoi prossimi due giorni. No, non esserlo. Ok. E cinque cose che nessuno sa sulle api. È arrivato quel momento. Eccomi qui, ragazzi. Sono qui per voi. Non è vero. Però, allora, innanzitutto una cosa importantissima. Se trovate un'ape che sta morendo, che sta male, voi la potete prendere e dire ti tengo un attimo qua, ma non dovete assolutamente darle il miele. Il miele non si dà alle api. Ed è lo stesso motivo per cui non si può dare ai bambini che hanno, mi sembra, meno di tre anni. Il latte. Ma il miele. Si era preparata davvero. Cos'hanno in comune i bambini con meno di tre anni e le api? No, 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 queste sono deformazione professionale. Il fatto che, vabbè, qua si va nei tecnicismi, ma facendo una molto breve, nel miele ci può essere la spora di un patogeno che si chiama botulino. Ah, certo. E praticamente c'è lo... E poi esce così. E poi esce così. Lo stomaco dei bambini, tipo, non può sconfiggere quella spora, quindi prolifera, e poi i bambini diventano tutti molli, è uguale le api. Però, tipo, i bambini muoiono, le api pure. Le api, ok, i bambini, meno ok. E quindi questa è il mio primo aneddoto. Poi, a meno che... Vai, comunque è bello, tanta roba. Ma questo, utilissimo. Perché... Potrei aver salvato dei figli. Sì, ma... Esatto, però... Cioè, il collegamento mentale è un'ape sta male e le do in miele. Eh, sì, tipo, per rifocillare, ma dici, cioè, questa lo produce, le piacerà. Certo, le piacerà. No, no, no. Ok. Poi? Poi c'è quella di Einstein. Dai, vi prego, non fatemela dire a me. Dai, la citazione su Facebook che diceva sempre Einstein sulle api. Il bombo? No! Eh, quello è il calabrone. Dai, che se... Quello della mela, eh. No, se mai si dovessero estinguere le api... Moreremmo. Eh, cazzo, la ti dirò. Ma non erano gli scarafaggi? No, le api. Quelli non si estinguono, sereno. Infatti, infatti. Esatto, loro no, però c'è questa cosa legata all'impollinazione. Certo, certo, però mica sono cose che nessuno sa. Ah, hai ragione. Ah, cazzo. Io so solo che si addormentano mentre mangiano il polline e sono molto stupide. ci sono delle foto molto belle di api addormentate col culo all'aria tutte sporche di polline. Carino. Molto carino. Però, ve le giro poi. Molto belle. Bello. Poi... L'altra curiosità può essere tipo come quel film della Disney, delle api che... Bugs Life, no? Sì? Bugs Life. Non erano api. No, c'era il film sulle api, no? Però non so come si è. Ma sì, quelle dove... c'era questa catena di montaggio dell'impollinazione. Vai, vai. No, per dire che è tutto vero. Cioè, che... Che sono... Che la Disney non mente. Cioè, è un documentario, non è un film per bambini. Certo. Quindi, quella... Nessuno lo sapeva, ora... Tutti lo sanno. Ok. Bene, abbiamo detto... Quattro, secondo me. Tre. Due. Secondo me, una più... Secondo me, due. Voi avete detto quello che nessuno sa e io ho detto quella che tutti sanno. Esatto. E tu hai raccontato una cosa che sapevi... No, ma è la verità. È la verità. Esatto, però... Che è la verità. Che è la verità. Che è la verità. Comunque io ne ho un altro. Sei proprio... Vai, vai, vai. Cioè, che praticamente c'è una fase in cui adesso il tecnicismo, non lo so bene, però l'alveare, l'arba va asciugata e ci sono delle api che sono deputate tipo a mettersi rivolte di schiena verso l'alveare e tipo sbattere le ali fortissimo e fare effetto ventilatore e così si asciuga tutto quanto. Bello. Bellissimo. E poi non so se avete mai visto il video di quando tipo l'apicoltore deve spostare le 300 miliardi di ape da un'arnia all'altra, però praticamente lui ha l'occhio e becca la peregina e allora ha una specie di molletta e la ingabbia e lui prende quella lì la sposta dall'altra parte e tutte vu. Così. Incredibile. Siamo a quattro. Comunque il film si chiama B-movie e dai creatori di Shrek e Madagascar dice vuoi assaggiare il mio miele? No. No. Assolutamente no. È sbagliato. Quindi per quello che è la verità Se hai meno di tre anni no. No, no, no. Però vedi qua ci sono anche tipo le api sbirre con i fucili che sparano propoli. È tutto vero. Ah, tu dovresti prendere un po' di propoli? No. Sì, perché è meno di tre anni. Direi che possiamo chiudere questa chiacchierata ricordando però appunto che la prima data che scuola è certa si sa è il 2 certezza sì martedì 2 martedì 2 maggio quindi tornati dall'1 che è festa esatto e anche il 2 sarà festa e anche il 2 sarà festa let's go grazie a tutti e ci vediamo all'ape. Ciao. Ciao.